Metti le mani così Così? Bravissimo E allora cosa succede? Guarda Cos'è? Ma cosa mi stai facendo? No, stai così Ciao Ciao Ma ora torna qua A vede che c'è in grande Un Fare- players Metti centri Giuseppe Anji SiaB o che cosa faccio? Tiengi fuldo. Ok, Sir. Payment card e cash? 0000 It's finito. Voi. 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 1 minuto. Ok. stiamo no no ero tu sei tu sei che che hai 5 minuti youtube tu sei che sei che hai fai no fai no fai no fai no fai no azz un altro una cosa che non si sa mai mai non è mai mai un altro che ci stiamo a un giorno un giorno sa mai già atta è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.